Passo la parola alla professoressa Carfora o Carfora? Carfora. Carfora. La professoressa Anna Carfora, membro dell'Istituto delle Storie del Cristianesimo Cataldonaro, che attualmente dirige. A lei la parola. Grazie. Innanzitutto voglio esprimere la mia contentezza per il fatto di essere qua per un appuntamento con la Cattedra Donne Cristianesimo, che in questi due anni, ultimi due anni, si è ripetuto più volte. E soprattutto per parlare di Chloe dei Ferretti, di cui poi, tra l'altro, due anni fa presentammo il bel volume su Ipazia di Alessandria e Sinesio di Cirene. La mia collaborazione con Chloe è certamente meno protratta nel tempo intensa di quella dei due colleghi che mi hanno preceduto. Però ritengo che lavorare con lei sia stata davvero un'occasione particolare di conoscenza e di arricchimento nella mia attività di studi e ricerca. È stato un modo per vederla all'opera e apprezzarne la straordinaria vivacità intellettuale, la scientificità del suo procedere, il grande senso di collaborazione e anche la sua straordinaria accuratezza e precisione. Anche io sono colpita dalla politicità di Chloe. In una intervista rilasciata al posto delle parole, la si trova su YouTube, circa il volume che Chloe ha scritto nel 2014, anche i Cagnolini, alla domanda su come mai sia passata nella sua attività di ricerca dall'interesse scientifico a quello filosofico e teologico, Chloe risponde che non si è trattato di un passaggio ma di un'aggiunta, cioè di un'espansione, cioè di una crescita. E così mi appare infatti tutto il percorso di Chloe tra dei ferretti, che ha lavorato negli anni proprio per allargarsi l'orizzonte e così poi per ampliarlo anche ai suoi lettori. Infatti, quel percorso di Chloe che è già stato sottolineato da Antonio Trupiano come un andare contro una certa norma che ritiene che la ricerca debba essere sempre limitata ad un campo quanto più ristretto possibile, a questo privilegiamento dell'intensità rispetto all'estensione, come se fossero due cose mutuamente escludentesi, e Chloe ha sempre opposto un altro modo di procedere e del resto basta non solo guardare il suo curriculum ma leggere anche solo qualcuno dei suoi scritti per capire che non è così o che almeno che non è sempre così, che ancora si può e si deve avere lo sguardo ampio, che non è questo un sogno da rinascimento, quasi da Leonardo Redivivo, non è così. Negli ambiti di studio che Chloe ha ricoperto nel corso del tempo io non trovo multisettorialità. Chloe non si è occupata di questo, di questo e poi di quest'altro, ma nei suoi lavori la scienziata, la filosofa, la teologa, lo diceva già anche prima, l'hanno già detto prima i miei colleghi, sono sempre la stessa persona e le prospettive si integrano e questo finisce per dare solidità alle sue ricerche. Come non pensare ad esempio a quanto scrive in anche i Cagnolini quando demolisce sulla base dei suoi studi scientifici alcuni presupposti di tipo antropologico che vengono adotti come motivazioni dell'esclusione delle donne dall'ordinazione presbiteriale. In questo caso si tratta di conclusioni scientifiche di cui si serve per fondare le sue argomentazioni antropologiche. Ma l'innesto e l'intersezione si realizzano pure sul piano del metodo, cioè sul modo in cui procede per analizzare le questioni. Farò via via alcuni esempi, mi concentrerò però soprattutto sugli studi di Chloe in ambito scientifico secondo la prospettiva di genere, che è uno degli ambiti sui quali Chloe ha lavorato molto nel corso degli anni. A me pare che l'interesse teologico di Chloe si situi ad una confluenza, oltre quelle già enunciate precedentemente da Antonio D'Edoardo, mi sembra che si situi alla confluenza fra Bibbia e storia. E questo secondo me costituisce una delle caratterizzazioni del suo procedere transdisciplinare. Chloe ha studiato teologia biblica e questo ambito è centrale nella sua produzione. Molti dei suoi articoli sono esegetici o, se sono teologici, si costruiscono su una base esegetica che si serve con straordinaria perizia del metodo storico-critico come dell'analisi narrativa. È biblico, per esempio, il saggio che presenta in un volume del 1999, di cui anche curatrice, Autorità, Potere e Violenza, le donne si interrogano. In questo volume c'è un piccolo testo di Chloe che si chiama La donna e l'autorità, figure bibliche. E in esso Chloe passa in rassegna, sotto lo specifico profilo che è indicato nel titolo del volume, dieci figure femminili che si incontrano nel Primo e nel Secondo Testamento e che lei considera, cito, simbolo di situazioni e problemi concreti del nostro mondo d'oggi. Penso a qualche altro articolo di quelli a stampo esegetico. Vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro padre che è del 2000, l'altare dell'offerta del 2001, l'unzione di Betania del 2003, fino al recente Gesù è il padre, il padre nostro del 2020, che è un commento dettagliato alla preghiera di Gesù. E adesso siamo in attesa della sua traduzione e commento della lettera agli ebrei che uscirà nel terzo volume del Nuovo Testamento, tradotto e commentato da donne, curato da Rosanna Virgili, che fa seguito prima ai Quattro Vangeli, poi alle lettere paoline, usciti per l'editrice Ancora a partire dal 2015. Quindi aspettiamo la nuova pubblicazione di Chloe. Ma in tutti i suoi scritti la Bibbia e gli approcci ermeneutici alla scrittura a me pare che costituiscano proprio il fondamento. Certamente altri hanno parlato dell'impostazione epistemologica di Chloe che investe l'ambito filosofico quanto quello teologico. E su questo io non aggiungo davvero nulla a quello che i miei due colleghi hanno sottolineato. Però nel metodo di Chloe io ritrovo, oltre al confronto con la scrittura, anche quello con la storia. E da questo punto di vista osservo come Chloe decostruisce affermazioni teologiche, come porta avanti una sorta di bonifica della teologia indispensabile per farla progredire, ma soprattutto per permetterle di assolvere a quello che è il suo compito principale, cioè quello di rendere ragione della speranza che è in noi. E per rendere ragione non ci si può evidentemente arroccare nel passatismo. Quindi si tratta in buona sostanza di un'operazione che conduce a storicizzare. e questo poi è il metodo a cui ricorre Chloe anche in Anche i Cagnolini, dove sostiene, dimostra che le argomentazioni a sostegno del pronunciamento definitivo sull'intendizione dell'accesso al presbiterato delle donne di ordinazio sacerdotalis non possono essere quelle. bisogna trovarne altre. E anche qui Chloe storicizza dimostrando di avere assunto e preso sul serio la prospettiva storiografica. Non mancano, devo dire, ancora oggi in teologia alcuni approcci con la storia più dichiarati che praticati, degli essenzialismi che poi la riaffiorano e anche dei richiami alla storia piuttosto sbrigativi che rispondono diciamo a un'impostazione del tipo vediamo cosa dice la Bibbia, vediamo cosa dice la storia, adesso finalmente dedichiamoci a cosa dice la filosofia. Chloe non fa così. Del resto la padronanza anche del metodo storiografico e Chloe la rivela anche in un testo come I pazia di Alessandria e Sinesio di Ciree, un rapporto interculturale. In questo libro l'attenzione alla dinamica interculturale che si esprime nella relazione tra la filosofa e il suo discepolo poi diventato vescovo è messa in evidenza attraverso una rigorosissima di esamina delle fonti senza mai cadere in anacronismi che applicano al passato paradigmi dell'attualità piuttosto facendo affiorare dal passato l'esistenza di dinamiche di relazione tra mondi che invece è una tendenza abbastanza abituale attuale a guardare tutto nella sincronia considera erroneamente come se fossero nati ieri o l'altro ieri. Mi soffermo però adesso sull'attenzione di genere e sui temi di genere che caratterizzano la produzione di Chloe. Chloe lo sappiamo appartiene al nucleo storico del coordinamento delle teologhe italiane e personalmente condivido con lei questa appartenenza. Abbiamo lavorato insieme su temi di genere in due occasioni. Nel 2010 quando abbiamo preparato il volume Teologhe in Italia, indagine su una tenace minoranza, volume a cui Chloe ha contribuito con due testi. Il primo, scritto con Nerina Rodinò, è che rappresentava un po' un bilancio della situazione delle donne in teologia con una attenta dinamica storica a partire dal Vaticano II e poi indicando alcune fondamentali tappe successive. Il secondo, con la seconda occasione in cui abbiamo lavorato insieme su questi temi, è stato un articolo scritto insieme sulla presenza femminile nell'istituzione accademica con la quale collaboriamo e questo a partire dall'ingresso delle prime studentesse ai corsi di teologia. Alcune delle pubblicazioni che affrontano in modo specifico i temi di genere, già citato anche Cagnolini, ma anche molti articoli e saggi sparsi in riviste e volumi come per esempio alcuni dei puntuali contributi che Chloe ha offerto partecipando ai seminari interdisciplinari dei docenti che venivano organizzati con cadenza annuale qui a San Luigi, come ad esempio quello su, ne cito solo uno, su Trinità e Chiesa in dialogo con Giacomo Canobbio, in cui Chloe affronta il tema del mistero trinitario e della sua relazione con l'ecclesiologia, ma nella riflessione teologica femminista. Tuttavia, anche quando la questione femminile non costituisce la focalizzazione primaria dei suoi studi, difficilmente ne prescinde. ricercare senza abbandonare, anzi promuovendo la prospettiva di genere è, posso dire negli scritti di Chloe, una lezione ormai acquisita. Nelle sue ricerche consulta e cita puntualmente i lavori delle donne e le prospettive femministe. Diamo uno sguardo a campione ad alcuni articoli, ad esempio nell'altare dell'offerta, sono citati i volumi di autrici fondamentali della teologia femminista con le quali lei interloquisce. Elizabeth Johnson, colei che è il mistero di Dio nel discorso teologico femminista. Elizabeth Schussler-Fiorenza, Gesù figlio di Miriam, profeta della Sofia, questioni critiche di teologia femminista. Rosemary Radford Reuter, Sexism and Good Talk. Un articolo, per esempio, su cui mi soffermo giusto per dare un po' l'idea di quello che voglio dire al riguardo è vedano le vostre opere buone e rendano giustizia e rendano gloria al vostro padre. Bene, questo articolo include due paragrafi sull'apertura alla teologia femminista che dischiude la prospettiva su un interessante aspetto che notico che caratterizza la vita di Gesù, ossia la kenosi del patriarcato. Voglio citare qui quello che Chloe scrive. Se un numero più o meno grande di donne, più o meno teologicamente preparate, prova disagio ad avere per salvatore e liberatore Gesù maschio o definiscono la maschilità di Cristo lo scandalo di Gesù per le donne che lavorano per la definizione di una diversa cristologia, bisogna interrogarsi se il modo attuale di interpretare teologicamente la maschilità di Gesù con le conseguenze che ne derivano è in linea con la chiara kenosis del patriarcato che emerge da tutta la vita di Gesù. Se sentono l'esigenza di partire dalle loro esperienze di sofferenza quando considerano le caratteristiche di Dio, tutto questo deve far riflettere non tanto su una stortura nella ricezione in ambito femminista dell'immagine di Dio come padre liberatore, quanto viceversa su una protratta struttura nella presentazione in ambito non femminista di questa immagine che ammonte della ricezione. Un altro articolo riferito all'unzione di Betania, articolo esegetico, in cui si presenta un ruolo femminile difficile da accettare perché la donna in questo caso sostiene Chloe, compie un atto cultuale ritenuto maschile. L'esergesi di Chloe induce a pensare che il ruolo della donna a Betania ha un significato profetico nel suo Ungere Gesù, anticipazione della morte in croce, così come poi dopo la morte c'è l'atto mancato di un'altra donna che non ha potuto ungere Gesù perché recatasi al sepolcro per ungere nella salma, trova il sepolcro vuoto e quindi ciò la porta a diventare testimone della resurrezione. Chloe crea questo interessantissimo parallelo. Questo è il seganfora, se può stringere e arrivare... Stringo il mio discorso perché sono arrivata alla conclusione e vorrei dire che la prospettiva di genere è al nucleo anche di un libro come quello sui pazzi e sinesio. Questo perché il volume contribuisce non solo alla ricostruzione della storia delle donne che ancora ha bisogno di disseppellimenti, ma perché ricostruisce una storia dove non solo le relazioni tra le culture sono avulse dalle logiche di dominio in mezzo a un mondo come quello di Alessandria dove la sopraffazione era invece diventata la maniera per imporre la propria verità, ma anche le relazioni tra il maschile e il femminile si propongono in una modalità riconciliata fuori da ogni stereotipo, forzatura o violenza di genere. Bene, di tutto questo percorso e di questo suo impegno io mi sento particolarmente grata nei confronti di Chloe.